Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con la breaking news in A1, 8 km di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria al km 266 tra Bivio Compronare e Firenze Nord a 11 e Bivio 1 variante di Valico in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Icidaregello e Firenze Sud in direzione nord. Ci spostiamo in Fipili dove restano code di un chilometro nelle due direzioni verso Firenze tra Empoli Est e Montelupo e in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Le code sono causate dai cantieri in corso tra Montelupo ed Empoli Est che prevedono attualmente la chiusura della carreggiata in direzione mare e il doppio senso di marcia nella carreggiata verso Firenze. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!